Il tasso di positività al covid in Lombardia è al 22,8%. A fronte di 13.301 tamponi effettuati, sono infatti 3.043 i nuovi casi comunicati dalla regione. Negli ospedali diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive. Con un paziente in meno, oggi sono 14 in totale, mentre aumentano di 39 i malati nei reparti ordinari, che ora sono complessivamente 780. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono 11, 40.798 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi covid divisi per provincia in Lombardia sono 1.176 a Milano, di cui 594 in città. 134 a Bergamo, 439 a Brescia, 124 a Como, 97 a Cremona, 76 a Lecco, 84 a Lodi, 43 a Mantua, 295 a Monzebrianza, 227 a Pavia, 29 a Sondrio ed infine 150 a Varese.